Amici appassionati di cuffiette, ben ritrovati sul canale. Non potevo dirvi niente fino ad oggi. Perché? Perché da oggi, 7 settembre, inizia la commercializzazione in Europa delle nuove cuffiette di Elevok, modello clear. Già subito si capisce perché clear. Importanza massima alla conversazione, al dialogo, alla voce che entra e i rumori che stanno fuori durante la chiamata. Poche chiacchiere, siamo davanti a un prodotto molto molto intelligente, un'ottima idea di Elevok e allora io ve le racconto in questa recensione completa. Ed eccole qua le nuove cuffie, le Elevok clear, confezione di ventita che subito dice quello che stiamo comprando, voice on, noise off. Ovvero, sì, alla voce, in entrata, fuori tutti i rumori. Molto interessante dal punto di vista hardware, proprio strutturale. Allora, la confezione di vendita ci riporta ad una manuale di istruzioni. La lingua, ragazzi, non c'è l'italiano, quindi affidatevi all'inglese o al francese, quindi non è difficile da interpretare. Confezione, due scompartimenti, due cofanetti. Nel primo, una cosa molto interessante, a mio avviso, visto che gli auricolari generalmente hanno sempre due, tre paia di gommini. Qui ne abbiamo, guardate, due, quattro, sei, più altri sei, dodici. Quindi sei paia di gommini di ricambio. Cambiano sia nella grandezza, sia nella profondità. Ci sono più invasivi, meno invasivi. Non avrete più scuse, quindi non mi scrivete, eh, Davide, ma non mi stanno all'orecchio, sono scomodi, non riesco a portarli. Adesso, con tutti questi gommini, ce la farete. Cavo di ricarica, USB tipo C e, ovviamente, auricolari. Auricolari che arrivano in questo case, spostiamo tutto, in questo case, marcato Elevok. Finitura opacizzata grey, con questo nero gommato che ricopre tutta la superficie. In basso, porta di tipo C, pulsantino che, se tenuto, va ad attivare l'abbinamento cuffia Bluetooth del telefono. E quattro LED. Vediamo se si attivano. Sì, in questo momento ne sono rimasti due. Siamo a metà della carica del case. E non me ne voglia Elevok, ma tanto chi mi segue avrà già intuito una certa somiglianza con gli auricolari di Blitzwolf. Quindi, beh, ragazzi, siamo praticamente sulla stessa concezione, proprio anche come finitura e parte bassa con i LED. Anche Blitzwolf ci aveva già pensato. Ma Elevok, con questi auricolari, fa qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Vi faccio vedere anche le iPods Pro. Quindi avrete sicuramente modo di notare le differenze con le cuffie di Apple. Eccole qui. Quindi queste sono le dimensioni. Poi ci arriviamo, ovviamente cambia l'attacco Lightning contro porta di tipo C e leddini. Qui i leddini in basso non ci sono. Non c'è la ricarica wireless, manca. Ma le chicche hardware arrivano, arrivano fra un attimo. Intanto vi faccio vedere la custodia. Custodia che ha una batteria da 600 mAh. Ricarica gli auricolari fino a 5 volte e quindi, beh, la durata complessiva è molto molto alta. Pensate che con questi auricolari, carica piena, riusciamo a totalizzare circa 5 ore di ascolto e chiamate a volume medio-alto. E guardate qui, vediamo se avete capito cos'è questo. Sì, ragazzi, c'è anche il sensore di play, pausa, automatico. Che bello! Quindi quando sfiliamo o inseriamo l'auricolare all'orecchio, il video o la canzone andrà in pausa o in play, senza stare a fare tap sulla parte qua, sulla parte touch, che dà i comandi, comandi touch. Non c'è alcun tipo di tasto, quindi solo sfioramento. Cuffiette molto carine, quindi simili alle Airpods Pro. Si sfilano, si indossano, ovviamente destro e sinistro c'è da non sbagliare, la forma è diagonale, quindi si adatta alla cavità dell'orecchio preciso, quindi non potrete scambiare destro con sinistro. Un peso totale, incluso il case, di 56 grammi. Si trasportano quindi bene, il materiale utilizzato è molto buono, non si vedono le impronte e hanno un'ottima batteria. Ma quello che è importante sapere di queste Elevok Clear è la componente interna. Infatti abbiamo sei microfoni in queste cuffiettine, quindi tre per lato, tre a cuffietta, aiutati da ben due accelerometri. Cosa significa? Significa che la voce viene elaborata. Voce, rumori esterni, viene con l'intelligenza artificiale creata una sorta di isolamento. L'uno passa, gli altri stanno fuori. Una tecnologia che in Elevok chiamano Vok Plus, ovvero intelligenza artificiale, che va a aiutare il passaggio della voce e fermare tutti i rumori. E allora vi dico che queste cuffiette sono le cuffie ideali per chi fa tante telefonate, sono le cuffie perfette per stare a telefono. Al di là della comodità, quindi abbiamo visto tanti gommini in dotazione, quello che conta è che anche se state in silenzio, ovvero non parlate, ecco, i rumori esterni non arrivano all'interlocutore che sta al di là della cornetta. Ed è qualcosa che difficilmente vediamo sulle cuffiette True Wireless. Vi faccio adesso sentire un esempio. Ecco, appurata quindi l'efficacia di questo ENC, ENC, quindi Environmental Noise Cancellation. Vi dico anche che il volume della conversazione è alto, non è spaccatimpani, ma è alto quanto basta e la connessione è stabilissima. Veniamo anche al punto in cui analizziamo l'ascolto dei video e della musica, quindi riproduzione da smartphone di contenuti musicali. Vi dico che non abbiamo un comando per aumentare o abbassare il volume, quindi si fa tutto da smartphone, non c'è un assistente vocale dedicato, quindi fronzoli non ne abbiamo. Abbiamo pochi comandi, ma buoni, perché abbiamo un tocco per mettere in play o in pausa, ma possiamo anche sfilarci la cuffia per mettere in pausa e poi rimetteremo in play rindossandola. Destra e sinistra è uguale. Doppio tocco per cambiare canzone o video, quindi doppio tocco destro vado avanti, doppio tocco col sinistro vado indietro. Durante l'ascolto di contenuti multimediali, che siano canzoni o video, possiamo tenere premuto l'auricolare destro o sinistro per cambiare modalità. Abbiamo tre modalità di ascolto, ovvero la classica, dove non succede nulla, la modalità ambient, in cui i rumori dell'ambiente vengono portati alla cuffia, quindi li sentiamo ideale per passeggiare quando siamo per strada, e l'ultima modalità, la modalità cancellazione del rumore attiva, ovvero si va a togliere il rumore dell'esterno e si ascolta solo la musica che entra qua, nei vostri auricolari. E allora cari appassionati di tecnologia, ma soprattutto di cuffiette True Wireless, secondo voi quanto costano le Elevok Clear? Le trovate da oggi in vendita in Europa su sito Indiegogo, quindi il sito di crowdfunding, dove abbiamo visto lavorare bene anche prodotti come Padmate, con le Pamu o Slide o Scroll e via dicendo, costano 59 euro al cambio, 69 dollari e spiccioli. Ecco queste sono le cuffie migliori straconsigliate per parlare a telefono, perché sappiate che l'interlocutore non avrà traccia alcuna dell'ambiente in cui voi vi trovate, sentirà silenzio o comunque quasi del tutto silenzio, i rumori saranno cancellati quasi del tutto e sentirà solo la vostra voce. Caratteristica rara sulle cuffiette da 50 euro. Vanno bene anche per ascoltare la musica che c'entra, vanno molto bene, non ho riscontrato grandi difetti, manca però per 59 euro, manca la ricarica wireless, manca un touch più completo a livello di comandi, quindi non si può controllare il volume, non si può chiamare l'assistente vocale, però la strada è molto buona, è quella giusta, complimenti ad Elevok per aver creato un prodotto tecnologicamente ben fatto, l'hardware lavora molto bene e i rumori stanno fuori, come dice la scatolina che arriverà a casa vostra. Grazie per l'attenzione, continueremo a esaminare altri auricolari wireless, loro vanno molto bene, vi lascerò i link sotto in descrizione se volete acquistarli, c'è un casino di auricolari true wireless a disposizione, ci sono su Amazon, ci sono su i siti delle case produttrici, se seguite il mio canale avrete tutte le informazioni necessarie, troverete tanti modelli, vi invito a dare un'occhiata alla playlist dedicata agli auricolari wireless, fatemi sapere il vostro preferito, un auricolare che spacca, che devo provare a tutti i costi, che magari ci siete accorti che non ho provato, che costa il giusto e che merita attenzione. Ci vediamo presto con la prossima recensione, appassionati di shopping, non mancate sul gruppo Telegram e Facebook Offerte Smart Italia, ma tanto troverete tutti i link sotto in descrizione al video. Ragazzi, alla prossima e brava Elevok con questi clear, vi sono veramente piaciuti, telefonate, top, ciao!